ieri il marito della venier ha girato un video in cui mostrava la moglie intenta a pulire la terrazza in abbigliamento casalingo mentre la riprendeva la prendeva in giro dicendole di coprirsi perché era mezza nuda ho fatto anche il video se non l'avete visto ve lo lascio qui il pallino di informazioni è giù nell'info box questa mattina mara aveva deciso di vendicarsi pubblicando un video del marito mentre girava in pantofole per casa dal commento a corollario del post si evinceva che lo prendeva in giro per la sua attività sportiva le passeggiate in casa quotidiana il video però era senza audio dunque non era possibile capire cosa si dicessero i due coniugi l'unica cosa che si è intuita è che il marito era divertito dalla ripresa dei commenti della moglie l'assenza di audio è probabilmente il motivo che ha spinto mara a cancellare il video pochi minuti dopo la sua pubblicazione nei commenti infatti i suoi fan le facevano notare che si era dimenticata di attivare l'audio e che quindi non era possibile sentire cosa si stessero dicendo insomma il tentativo è fallito ma visto che per il momento la quarantena continua non mancheranno occasioni per riprovarci se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate like di supporto